Ciao lettrici e ciao lettori! Chiedo, venia, sin da subito se questo apparirà magari un video improvvisato, in realtà improvvisato lo è davvero, ma ci tenevo tantissimo a parlarvi di questo libro perché comunque l'ho finito da poco e voglio parlarne quando ancora l'emozione che ho provato è ancora fresca, perché comunque è un libro che mi ha emozionato tantissimo e infatti come ho scritto nel titolo, a meno che non l'abbia cambiato poi quando ho caricato il video, vi è mai successo di stare svegli fino alle 5 di mattina sapendo poi di dovervi svegliare alle 7 soltanto per finire un libro e soprattutto di stare svegli e di piangere perché secondo me quando arriva l'alba è come se le emozioni si triplicassero, non so se vi è mai capitato di stare svegli all'alba, cioè sia che magari eravate di ritorno da una notte di bagordi, sia che magari, non so, vi siate svegliati in preda a un incubo e tra l'altro i latini dicevano che gli incubi fatti sul far del mattino sono quelli che poi si realizzano, anche i sogni, però in realtà a me i sogni si realizzano, no, gli incubi si realizzano, i sogni no, ma è un altro discorso e secondo me se vi è capitato in quell'ora è l'ora in cui siete magari più fragili, più sensibili e quindi è proprio quello che è successo a me con questo libro sono arrivata alle 5 di mattina in lacrime e io lo definirei con tre aggettivi emozionante, sconvolgente, un viaggio nei sentimenti non solo nell'amore ma comunque soprattutto nel rapporto tra fratelli e un altro aggettivo scritto da Dio, scritto molto molto bene ma io credo che questa sia proprio una certezza dei libri Neripozza cioè se compri un libro Neripozza che è l'editore di questo libro magari può non piacerti però difficilmente dirai che è scritto male allora il libro di cui sto parlando è di Lucy Clark e si chiama Le sorelle dell'oceano e costa soltanto credo 12,90 euro quindi 13 euro e racconta, vi dico un po' la trama per sommi capi, racconta la storia di Katie e Mia che sono due sorelle ma due sorelle che più diverse non si può, chi ha un fratello e una sorella mi potrà capire e sta bene come alle volte quasi si fatichi a pensare di essere figli degli stessi genitori io ho un fratello che amo, che siamo più o meno coitanei però siamo il giorno e la notte cioè sia fisicamente, lui è magro, piccola parentesi, sia fisicamente che proprio a livello di passioni, di carattere io è estroversa, lui è più introverso, insomma siamo gli opposti ecco e Katie e Mia sono proprio due sorelle che si amano ma poiché sono completamente diverse non riescono comunque ad andare d'accordo, a trovare un punto di incontro e lo troveranno purtroppo solo con la morte, la morte di Mia perché un giorno mentre Katie sta dormendo suonerà la polizia e le rivelerà che sua sorella che era partita per un viaggio in giro per il mondo è stata trovata morta ai piedi di una scogliera di Bali l'isola di Bali che tra l'altro Katie sa benissimo che non era nell'itinerario che le aveva dato la sorella quindi lei contatterà Finn, l'amico fraterno innamorato di lei con cui la sorella Mia era andata in viaggio per cercare di capire perché a un certo punto Mia abbia lasciato Finn in California e abbia proseguito da sola per Bali ora le autorità balinesi parlano di suicidio ma Katie non è per niente convinta che si tratti di suicidio perché comunque sua sorella è amante della vita, una persona che per quanto tormentata non avrebbe mai rinunciato a vivere per cui lei che tra l'altro è sul punto di sposarsi decide di stravolgere completamente la sua vita e prima del matrimonio vuole ripercorrere tutte le tappe del viaggio di sua sorella un viaggio in tutto il mondo che sarebbe durato un anno per cercare di capire cosa può esserle successo se davvero si è suicidata e se l'ha fatto perché o comunque invece sei stata ammazzata diciamo che leggendo la trama io mi aspettavo una componente un po' più gialla in realtà non c'è nessuna componente gialla nel senso che comunque fino alla fine c'è il dubbio che fino alla fine non si sa, lo saprete solo nell'ultima pagina se lei è stata uccisa, se si è suicidata oppure se si è trattato di un incidente però non è un giallo, è un libro di narrativa, narrativa semplice io non potrei mai categorizzarlo in un genere perché non è sentimentale però ecco a tutte le componenti in sé è scritto benissimo e con un pathos che cresce anche perché a un certo punto della trama le autorità balinesi consegneranno a Katie il diario che sua sorella scriveva, che aveva iniziato a scrivere già da Londra e che si era portata con sé quindi lei deciderà di non leggerlo tutto subito ma di leggere tappa per tappa quindi di visitare i posti e contemporaneamente leggere il diario della sorella per cui ci sarà una sorta di parallelo tra le emozioni di Katie e quelle di Mia vissute negli stessi luoghi e non me l'aspettavo ma ci sono dei colpi di scena allucinanti in questo romanzo che riguardano tutti i protagonisti quindi fino alla fine voi non conoscerete la verità e sarà una verità che vi sconvolgerà dal profondo e io sinceramente l'ho detto quando sono arrivata a finirlo alle 5 di mattina fuori albeggiava, io ero in lacrime sul letto e non mi vergogno a dirlo e io era da tanto che non leggevo un libro che mi emozionasse così anzi no, forse dalla recensione precedente che vi ho fatto di un altro libro che era sempre Giano comunque questo io ve lo consiglio tantissimo soprattutto se siete donne soprattutto se siete anime un po' tormentate se amate viaggiare perché comunque farete un viaggio dall'Inghilterra alla California all'isola di Bali eccetera io ve lo consiglio veramente dal profondo e siccome già per il libro che ho recensito in precedenza ho avuto delle recensioni positivissime c'è gente che veramente mi ha detto io sono rimasta sveglia per leggerlo e secondo me il complimento più bello che si può fare a un libro non dormire per leggerlo e i giorni dopo avere ancora qualcosa dentro che il libro ha lasciato e questo libro Le sorelle dell'oceano di Lucy Clark fa entrambe le cose quindi è consigliatissimo noi ci vediamo alla prossima recensione un bacio ciao 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 ciao